Noi come Movimento 5 Stelle non possiamo che esprimere la nostra soddisfazione perché dopo tre anni e mezzo quasi di lotta per cercare di far approvare anche delle nostre proposte sul tema del contrasto gioco d'azzardo, oggi approvando questa norma vengono recepite praticamente quella quasi totalità delle nostre proposte. Per cui siamo orgogliosi di aver dato un apporto fondamentale a quello che è stato la predisposizione di un testo unificato e crediamo che alla fine sono stati utili tutti gli apporti che sono arrivati un po' da tutte le parti sia durante le audizioni sia da tutti i colleghi dell'Aula che hanno voluto dare un contributo e credo che sia quindi una buona legge. Credo che l'approvazione di questa legge sia una vittoria, però la vittoria di una battaglia, una battaglia regionale, potremmo dire la battaglia sull'Isonzo. La guerra va spostata adesso a livello nazionale dove lo Stato continua a far finta di non vedere e continua a fare cassa sulla pelle dei cittadini. Grazie.